Super elastico, guarda che meraviglia, indossato in questo modo, vedi la nostra modella potrebbe assolutamente portare la cintura più bassa oppure prendere una taglia in più, scenderebbe un po' di più se la volesse più lunga e guarda la morbidezza e anche la caduta di questa canotta, come un capo può essere semplice e banale ma diventa veramente sciccoso quando lo vedi indossato, è veramente un altro, guarda con la scarpa elegante, questo è un capo adattissimo anche a una cerimonia. E i due colori, in questo caso ho voluto proprio mettere solo due colori essenziali. Viola, sembra quasi un blu eh, in realtà è un viola blu.